Quali sono i problemi di questa squadra al momento? Sconfitta molto pesante direi. I problemi di questa squadra innanzitutto sono le assenze. Purtroppo nel suo campionato avevamo un bello organico e determinati giocatori per problemi personali non vengono più. Oggi abbiamo avuto 4-5 assenze per noi molto importanti, sicuramente hanno influenzato sulla prestazione. Comunque abbiamo incontrato una grande squadra, l'abbiamo incontrato anche nel precampionato e sappiamo che fosse una grande squadra. Infatti comunque si è visto sul campo anche a prescindere dalle nostre assenze. Salvezza è molto difficile, però sicuramente l'obiettivo è quello. Anche nel suo campionato noi veniamo dalla Serie 2, abbiamo preso qualche giocatore, sappiamo che era un campionato difficile. Comunque cerchiamo di dare sempre il massimo, quindi ripartiamo dalla prossima partita. Va bene, grazie mille.